Quando possono studiare, le ragazze ottengono risultati finali più brillanti nei diversi passaggi, ma una parte di esse non ci arriva proprio, a causa di difficoltà socio-economiche e di discriminazioni di genere. In Italia più di 2 milioni di bambini e bambini vivono in condizioni di povertà assoluta. Il progetto futura di Save the Children, Forum di Suguaglianza e YOLC, punta a sostenere le giovani nei loro percorsi di studio o formazione lavorativa. Il fenomeno della povertà educativa è un fenomeno diffuso in Italia ed è l'altro lato della medaglia della povertà economica. Sono due fenomeni che purtroppo si alimentano l'uno con l'altro in un circolo vizioso che noi dobbiamo spezzare. Tra le giovani donne di età compresa tra i 15 e i 29 anni, in 870.000, si ritrovano sospese nel limbo dei NET, acronimo inglese che sta per né studio né formazione né lavoro. Il progetto individua 300 ragazze tra i 13 e i 24 anni in tre territori caratterizzati da disagi di diverso tipo, nelle città di Napoli, Roma e Venezia Mestre. A ostacolare i percorsi educativi ci sono inoltre gli stereotipi di genere. Vieni da Barra Ponticelli a Napoli? Vieni da un quartiere periferico di Roma? Hai buoni voti, sì, ma il classico non fa per te. Per te fa l'alberghiero o l'estetista. E questi stereotipi di genere pesano moltissimo. Per le giovani coinvolte è stanziato un budget educativo, cioè una dote economica, con un programma individualizzato anche grazie al sostegno di Banca Intesa. Intesa San Paolo ritiene che il tema delle disuguaglianze sia oggi il problema principale che abbiamo nel nostro paese.